The English Teacher segna il debutto cinematografico di Craig Zisk che ha al suo attivo oltre 50 serie televisive e diverse nomination tra Golden Globe ed Emmy Award ma veniamo alla trama del film Linda Sinclair alias Julianne Moore è una 45enne single che insegna inglese in un liceo di Kingston in Pennsylvania la tipica professoressa che dopo la giornata di lavoro trascorre la serata davanti ad un film strappalacrime oppure rifugiandosi nei grandi classici della letteratura ben presto però questa sua tranquilla routine è sconvolta dal ritorno di uno dei suoi ex allievi Jason avvilito e confuso dopo il fallimentare tentativo di sfondare come drammaturgo a Broadway spinto dalle ambizioni smodate del padre Julianne Moore si muove bene nei panni dell'insegnante un personaggio all'apparenza semplice ma mai banale capace sul finale di uscire fuori dagli schemi e spiazzare tutti il resto del cast si muove in armonia intorno alla protagonista perfette le interpretazioni di Nathan Lane delle veste del frustrato professore di recitazione e dell'ex studente interpretato da Michael Angarano insomma The English Teacher è una pellicola del sapore sentimentale una commedia divertente non leggera che intrattiene lo spettatore e lo spinge ad interrogarsi sull'accettazione del perdono e sulle infinite possibilità che la vita ci offre per abbandonare le vecchie abitudini ed accogliere nuove occasioni mi sta avendo un infarto mi sta avendo un infarto Grazie.